I corridoi umanitari per i profughi afghani, siglato all'Aviminale un protocollo d'intesa per aprire un canale di ingresso legale per i cittadini bisognosi di protezione internazionale. Il documento è la sintesi di un lavoro coordinato dal Dipartimento per l'Immigrazione del Ministero dell'Interno, al quale hanno preso parte anche i rappresentanti del Ministero degli Esteri e altri soggetti, tra cui l'UNHCR, la CEI, la Comunità di Sant'Egidio, la Federazione delle Chiese Evangeliche e la Tavola Valdese.